Il racconto del mercoledì, in diretta dal Vaticano, una produzione Telepace e Vatican News, a cura di Eugenio Bonanata. Carlo Acutis diventerà santo, si aspetta solo di conoscere la data e il luogo della canonizzazione dopo che Papa Francesco in questi giorni ha autorizzato il Dicastero per le Cause dei Santi a pubblicare il decreto relativo al riconoscimento di un miracolo attribuito all'intercessione di questo giovane beato. In attesa dell'udienza generale in Piazza San Pietro ne parliamo con Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticano e Vatican News e con Marina Rosati, direttrice dell'ufficio per le comunicazioni della diocesi di Assisi che è collegata via Skype. Grazie a tutti e due di essere con noi oggi. Allora, Massimiliano, che cosa dire di questa notizia che ha fatto subito il giro del mondo? Beh, è una notizia bellissima perché innanzitutto sarà un santo contemporaneo, un ragazzo, è uno di noi. Noi registriamo come Radio Vaticano e Vatican News le reazioni che sono avvenute un po' in tutto il mondo. Abbiamo detto più volte la Radio Vaticano e Vatican News si esprime in 53 lingue, all'interno del palazzo sono presenti 69 paesi. La prima cosa che abbiamo fatto è ricevere da tutti questi terminali del mondo questa gioia e questo entusiasmo. Perché? Perché Carlo è un ragazzo prossimo, lo ricordavamo anche poco fa, prima che iniziasse la trasmissione, è andato in cielo, che aveva 15 anni e adesso aveva poco più di 30 anni. Quindi assolutamente attuale ed è una espressione di vicinanza molto grande nei confronti di tanti ragazzi, seduce tanti ragazzi in tutto il mondo. Come esempio questa vicinanza all'Eucaristia che poi si trasformava in una vita quotidiana, in una vita semplice. Il Papa anche tante volte ribadisce il santo della porta accanto. Ne è proprio un esempio Carlo di questa espressione, cioè un ragazzo comune che gioca, che studia, che ha in cuore questo amore grandissimo nei confronti dell'Eucaristia. Poi peraltro il Corpus Domini sarà domani, anche se sarà celebrato domenica prossima come data di celebrazione per la Chiesa. Quindi questa grande vicinanza e prossimità che diventa reale. Poi nel mondo della comunicazione Carlo è un grande comunicatore, lui stesso utilizza le nuove tecnologie, internet, per poter diffondere quella che è la buona notizia, cioè la bellezza del Vangelo, essendo lui stesso un grande comunicatore. Quindi diciamo in una parola questo grande entusiasmo di concretezza e di realtà che arriva nel mondo dei giovani e poi riparte dal mondo dei giovani. Ecco Marina Rosati, il tuo ufficio a pochi passi dal santuario della spogliazione dove si trovano le spoglie mortali di Carlo Agutis. Quali sono state le reazioni ad Assisi dopo l'annuncio di Papa Francesco? Beh ovviamente il primo segnale sono state le campane che hanno iniziato a suonare di tutte le chiese di Assisi e quindi ecco è stata una grande gioia proprio sonora. E poi diciamo che nell'aria c'era, tutti aspettavano questo miracolo e c'è stata una grande gioia da parte delle comunità religiose, dei francescani. Ecco quando a mezzogiorno abbiamo letto qui nel santuario il messaggio del nostro vescove, Monsignor Domenico Sorrentino, che in quel momento si trovava a Roma all'assemblea della CEI, veramente ci siamo tutti radunati nel santuario vicino proprio al corpo di Carlo, quindi una grande gioia. C'era anche la famiglia, la mamma, il papà, gli amici di Carlo, l'associazione. C'è davvero un grande entusiasmo perché certo per una città come Assisi dove i santi non ci mancano, Francesco, Chiara, San Rufino, è una, come dice il nostro vescovo, è una grazia su grazia. Però come anche diceva Massimiliano, Carlo ha un carisma particolare, un carisma che coglie tutti, che colpisce perché è un santo dei nostri giorni, ma soprattutto si vede nelle presenze che noi registriamo qui, ma anche nel target, nel tipo di visitatori, di fedeli che vengono qui, proprio a parte da ogni parte del mondo, quindi l'altro ieri avevamo un gruppo dell'Uganda, quindi abbastanza strana come tipo di fedeli che di solito non si sono mai visti ad Assisi, ma soprattutto i giovani, giovani che si vedono incolonnati per venerare lì la tomba, il corpo di Carlo, per pregare davanti al suo corpo, ecco, e magari non si vedono così in massa neanche a San Francesco, dove ovviamente i flussi sono sempre tanti, ma è diverso, veramente chi si accosta a Carlo è un popolo di tanti ragazzi e questa è veramente una benedizione. Ecco Massimiliano, perché secondo te tutto questo, anche da un punto di vista comunicativo, è il fatto che le spoglie mortali di Carlo siano anche esposte, ha fatto discutere anche questa scelta del Vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, ovviamente d'intesa con le autorità, ma ecco, da un punto di vista comunicativo, questa santità ci interroga molto? Ci interroga molto e ci chiama, ci attira, non ci attira nel senso di attirarci verso Carlo, Carlo di nuovo è un ponte, è un ponte verso Gesù, verso Dio, quindi è l'essere attirati da quello che è un criterio di verità assoluta e di testimonianza. Prima si diceva delle tante file, delle folle che vanno a salutare, a pregare di fronte alle spoglie mortali di Carlo, ma a queste bisogna cercare di vedere, immaginare un po' quello che vi raccontavo prima, infatti nel mondo sono oltre, ma stanno crescendo, sono oltre 200 i siti e i blog che raccontano la realtà di Carlo Acutis, i social media sono esultanti e continuamente si confrontano su questa realtà di Carlo, quindi l'invito che viene da Carlo è perché era molto concreto, cioè il suo vivere la fede, il suo essere innamorato dell'Eucaristia, quindi del corpo di Gesù, si trasformava in un aiutare ogni persona che ne avesse bisogno, essere prossimo all'altro, cercare di stare vicino, quindi ci sono le tre dimensioni, la dimensione della preghiera, quindi del rapporto intimo con il Signore, e quindi la preghiera, lo ricordiamo, è la porta di accesso verso Dio, il Papa ribadisce fortemente e molto molto spesso questo aspetto, cioè del trovare il tempo, anche ridimensionare il tempo rispetto alle tante vite complicate o frenetiche o che vivono la difficoltà della guerra, della privazione, quindi la preghiera è sempre non un rifugio, è una porta di dialogo con Dio e questo Carlo la percorreva continuamente, era un cuore aperto, però che diventava azione di carità, quindi azione di amore, azione di amore verso l'altro e poi diventava da questo testimonianza nel web, nella realtà, quindi lui aveva necessità come si è quando si vive un aspetto bello, un aspetto pieno, di comunicare questa bellezza a tutti, tutto questo oggi continua ad attirare milioni di persone, milioni di ragazzi. Marina, a te cosa colpisce in particolare della biografia di Carlo? Ma ecco, quello che mi colpisce, essendo anche una mamma di un ragazzo di 14 anni, quindi ecco, più o meno l'età di Carlo è questo suo, accostarsi veramente all'eucaristia quotidianamente, questo essere una fede molto viva, molto reale, molto presente, non un cristiano da pasticceria, come dice Papa Francesco, che un po' rappresenta il nostro mondo, il nostro cattolicesimo oggi, quindi ecco, lui l'ha vissuta veramente intensamente, però ecco, come diceva anche il collega, nella normalità, nel fare tutte le altre cose, nell'andare a scuola come tutti gli altri, nel fare lo sport, ecco, saper mettere la fede nella propria vita in maniera reale, in maniera, il Vangelo al centro, però non rinunciando a niente di quella che è la bellezza della gioventù, questa è una cosa che mi colpisce tanto e che mi spinge sempre a parlarne anche con i miei figli, perché è una santità della porta accanto. E a proposito di questo, oggi ricorre la Chiesa, celebra la figura, la memoria liturgica di San Paolo VI, Papa Montini, la figura di Papa Montini è legata al Concilio Vaticano II, che ha ribadito un aspetto fondamentale riguardo alla santità, appunto, che tutti possiamo aspirare a questa dimensione, e Carlo ce lo conferma, no Massimiliano? È il modo in cui si intraprende, legge la propria vita, è un percorso, è un percorso di conversione, non è un ribaltamento rispetto a quello che a volte spesso si crede essere la santità, non è lo sforzo individuale ad essere migliori, ad essere senza difetto, ad essere, appunto, robusti nel poter affrontare la difficoltà o la fede, non è l'erigersi ad essere qualcosa, è esattamente l'opposto, e lasciarsi plasmare da questo percorso di vicinanza a Gesù, a Dio, è un percorso di conversione, allora in questo camminare, in questo convertirsi, ognuno può diventare, anzi è invitato a diventare un santo nella propria vita, e questo accade in Carlo, noi vediamo proprio questo, ed è reso, mi fa piacere ricordare anche un film, La mia autostrada del cielo, che è il film che è uscito nel 2020, proprio su Carlo Acutis, di Matteo Ceccarelli, che fu peraltro un'operazione, un ideato da Officina della Comunicazione, e anche insieme al Centro Televisivo Vaticano, questo film mostra, fa vedere un po' quello che stavi dicendo prima, e che passa attraverso questa conversione, la verità, la semplicità, perché è un film dove vengono mostrate anche le testimonianze di chi conosceva Carlo, quindi è un film che mostra come nel cammino, nel percorso personale, quotidiano, si diventa santi, allora non sono più soltanto le parole che stiamo dicendo noi oggi qui, ma si rende visibile nella realtà di una persona, con un nome e un cognome, vissuto ieri, oggi anzi, non ieri, oggi, perché è un ragazzo che avrebbe, un giovane uomo che avrebbe in vita poco più di trent'anni, si rende visibile questo aspetto di santità, si può toccare, si può vedere, e ci incoraggia, incoraggia ognuno di noi ad essere così, ci dice, il tema non è se sbagli e cadi, il tema è se ti rialzi e continui a camminare, guardando la luce di Gesù, e rende possibile questo, costruire un mondo diverso, un mondo fraterno, un mondo solidale. E allora, vediamo che Papa Francesco ha appena terminato il consueto giro in automobile scoperta nei vari settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro e sta per iniziare l'udienza generale. La catechesi di oggi, Papa Francesco, la incentrerà sullo Spirito Santo, Massimiliano. Sì, permettimi di commentare queste immagini che stiamo vedendo, perché in questo momento il Papa sta salutando tutti i cronisti, che nelle varie lingue, i lettori potremmo dire, delle varie lingue, che poi declineranno il suo contenuto in varie lingue. Sono gli stessi cronisti, molti, di Radio Vaticana, Vatican News, che poi tengono la radiocronaca in 6-10 lingue come servizio che viene offerto al mondo. In questo momento è l'ultimo saluto di Gudrun Seiler, della redazione tedesca. Il Papa si sofferma sempre a salutare queste figure? Sì, perché al Papa è molto caro, lo abbiamo visto praticamente sempre. Non è soltanto colui che presta un servizio per l'ampia diffusione del suo contenuto, ma ha in cuore la vicinanza nei confronti di ogni fedele che desidera salutarlo. Infatti non si risparmia in questo aspetto. Allora, dicevi prima sulla questione, su questo nuovo ciclo di catechesi dedicato allo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo di nuovo, se vogliamo collegarlo con Carlo Acutis, perché domenica scorsa, proprio a motivo, la Chiesa ha celebrato la Trinità, e il Papa ha proprio parlato a oltre 50.000 persone presenti in Piazza San Pietro, proprio dello Spirito Santo, dicendo che non è semplice comprendere, ma ha detto che è colui che ci accompagna. Ha chiesto ai bambini, anche presenti, tre volte di dire questa frase, cioè colui che ci accompagna nella vita, colui che ci guida nella vita. Quindi che infiamma il nostro cuore e ci dona la capacità appunto di capire, di comprendere, di discernere. Diamo la linea a Papa Francesco e poi torniamo per i commenti dopo l'udienza. Con la benedizione di Papa Francesco termina l'udienza generale in Piazza San Pietro, prima catechesi di un nuovo ciclo, sullo Spirito Santo. Massimiliano colpisce, come di consueto, l'appello del Papa, sempre a braccio, sempre molto spontaneo, con un accento sui bambini che vivono costretti a vivere la guerra. Il Papa ha ricordato una sua esperienza di questi giorni. Il fine settimana scorso c'è stata la prima giornata mondiale dei bambini e delle bambine. Il Papa in quell'occasione, in Vaticano, ha ricevuto un gruppo di bambini che hanno perso il sorriso, ha detto il Papa, perché hanno perso gli affetti, ma anche gli arti. Sono perso gli affetti, gli arti, nel senso che vivono nel corpo, nella carne, l'orrore della guerra. E questo è inaccettabile, è un abominio per l'umanità, perché lo ricordiamo, e il Papa ha presente questo, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, sono circa 400 milioni i bambini che vivono in area di conflitto. E in questo caso sappiamo la vicinanza del Papa in relazione al recente conflitto in Ucraina, così quanto sta accadendo in Medio Oriente. Ricordiamo anche, purtroppo, i 50 morti a Rafa a causa di un'incursione, di fatto, israeliana, che si è abbattuta su un campo profughi. Ecco, il Papa, di fronte all'enorme, grande, grave sofferenza dei bambini, che sono i più piccoli, sono i più indifesi, sono affidati agli adulti, al raziocinio, al cammino degli adulti, continua ad invocare instancabilmente la costruzione di un mondo diverso, un cambio di rotta, l'impegno affinché si possa costruire la pace concretamente. Il Papa ha citato l'esortazione apostolica, l'Evangelio in Unziandi, che è un documento fondamentale della Chiesa, risale al 1975, e parla proprio della testimonianza, parla dell'annunciare il Vangelo, e in un ribaltamento di prospettiva, dove non è soltanto un dire, ma è un incarnare questo, e questo si incarna anche attraverso le azioni di costruzione di bene, la partecipazione alla costruzione di una società diversa, di una società che trovi con creatività soluzioni a borre, che possa abolire, distruggere tutto quello che è composizione della guerra, invece costruire tutto quello che è nella direzione della pace. E oggi ricorre la memoria liturgica di Paolo VI, autore di questa esortazione apostolica. Marina Rosati, in collegamento da Assisi, anche a te la domanda sulla giornata mondiale dei bambini, come l'hai vissuta da mamma? C'è qualche problema di audio, forse il microfono è escluso, Marina puoi controllare, parlavamo della giornata mondiale dei bambini e delle bambine, ci senti Marina? Io vi sento. Ti sentiamo anche noi. Dunque la giornata mondiale dei bambini. Ecco, personalmente non ho potuto partecipare, ma l'ho seguita. Ovviamente la diocesi era presente con diversi gruppi, sia appunto della nostra diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdotadino, ma anche la diocesi gemella di Foligno, sempre seguita da Monsignor Sorrentino e poi tanti Umbri, sono partiti tanti pullman, treni. È stato davvero un bel momento, ma lì è evidente la gioia del Papa, la gioia del Papa nello stare con i più piccoli e soprattutto il monito del Papa che ci richiama sempre a garantire quelle che sono le persone più fragili, più deboli e che poi sono anche le vittime i più innocenti delle azioni dei grandi, come nelle guerre, come ha detto anche adesso. È stato davvero un bel momento, ovviamente poi l'interpretazione, la performance di Benigni, la domenica veramente eccezionale perché con la sua verve, con il suo modo, ha saputo cogliere alcuni messaggi importanti da dare a questi bambini, a questi giovani, cogliete la vita, prendetela voi, guidate e soprattutto ha detto sì, vi consegniamo un presente non bellissimo, ma voi saprete cambiarlo e fare di meglio di quello che abbiamo saputo fare noi, quindi ecco, veramente bella. Tanti messaggi, come diceva Marina, sono emersi da questo weekend, da questa prima giornata mondiale dei bambini e delle bambine che Papa Francesco ha fortemente voluto, un bilancio. Diciamo che questa giornata è importantissima perché? Perché il Papa ha di nuovo intercettato, grazie alle, possiamo dire, tante segnalazioni, segnalazioni, ai tanti ricettori che portano questi, padre Enzo Fortunato è stato colui, ringraziato anche dal Papa, perché ha reso proprio possibile, ha realizzato, ha reso possibile questo evento. La parte centrale dell'evento è questa, c'è una grande necessità nel mondo in questo momento di riprendere le fila di una comunione, vuol dire stare insieme essendo illuminati dalla luce della fede nel Vangelo. Allora, iniziare a stare insieme con i bambini, perché ricordiamo in questa giornata mondiale dei bambini che poi proseguirà nel 2026, cioè il prossimo appuntamento nel 2026, si è iniziato un cammino, un cammino un po' come si era iniziato con le giornate mondiali della gioventù. Il senso qual è? Il senso è mostrare la bellezza della fede stando insieme, iniziando dai bambini, quindi proponendo, c'è una proposta in questo, proponendo ai bambini questa bellezza, che è uno stare insieme non vano, non legato soltanto all'evento in quanto tale, ma è la partecipazione, quindi la gioia, non è una gioia di schiuma, è una gioia profonda, dove dentro c'è un messaggio edificativo per la persona, cioè il bambino fa l'esperienza di una cosa bella e di una cosa vera. Lì, diciamo, in questi due giorni, allo Stadio Olimpico prima, poi in Piazza San Pietro, quindi queste 50.000 persone, erano presenti, potendolo raccontare in maniera, diciamo, figurativa, dall'A alla Z, cioè dall'Afghanistan allo Zambia, erano presenti tantissime nazionalità, oltre 100 nazionalità, quindi questo è l'inizio di un cammino, è immaginabile che nel tempo questi incontri non si svolgano soltanto con centro Roma, centro Vaticano, ma come per la giornata mondiale della gioventù, esistono le giornate mondiali della gioventù diocesane, questo è un inizio, credo che si potrebbe pensare così, cioè un inizio come per dire, uno stimolo per le varie nazioni, per le varie realtà, per le varie diocesi, per le varie conferenze episcopali, a generare questo incontro. Allora che cosa diventa? Diventa un cammino, i bambini si incontrano, i ragazzi si incontrano, gli adulti si incontrano, e si crea questo legame tra i nonni, che ricorda sempre il Papa, nel quale innestare, che quindi sono, diciamo, i custodi di un fuoco, non della cenere, di nuovo citando Papa Francesco, e i giovani che sono lanciati e costruttori del presente e del futuro. Ecco, è questo il bilancio della giornata mondiale dei bambini. Un bilancio che comunque, insomma, un cammino che può essere vissuto, Marina, anche all'insegna, sotto l'esempio, la guida di Carlo Acutis, lo ricordavamo, Papa Francesco ha dato via libera al decreto, no, sulla canonizzazione, quindi l'approvazione di questo miracolo. Marina, cosa succederà, secondo te, al santuario della spogliazione da adesso in poi? Cioè, che si vivrà una fase nuova, cosa ti aspetti? Ma, in parte, noi stiamo veramente raccogliendo già i frutti della beatificazione inaspettati, in qualche modo, anche il vescovo che è stato un po' il visionario, che ha intuito la grandezza di questo giovane, traslandolo dal cimitero al santuario della spogliazione, non a caso, mettendo, se voi arrivate sull'ingresso della chiesa di Santa Maria Maggiore, trovate l'immagine di Francesco e Carlo che indicano Gesù, quindi, non sta in questa chiesa per caso, ma proprio per un'intuizione del vescovo di la spogliazione di Carlo, la spogliazione di Francesco per arrivare a Gesù. e quindi stiamo già vedendo veramente cose inaspettate, sicuramente Assisi sta cambiando proprio anche il modo di vivere la sua straordinaria santità, i fedeli vengono adesso chiedono Carlo e Francesco, insomma è un binomio perfetto che dobbiamo incamminciare veramente anche a custodire e lo stiamo facendo anche organizzativamente perché incominciano veramente a essere dei flussi così importanti. Adesso l'attenzione è un po' sul toto data, su quando avverrà questa canonizzazione, qualcuno parla di ottobre, ovviamente sono solo supposizioni come sappiamo sarà poi il Papa a decidere si parla di ottobre sarebbe bello perché è la memoria liturgica oppure qualcun altro parla anche per il giubileo dei giovani del 2025 sicuramente a Sisi andiamo verso degli anni importanti con il giubileo perché Roma Sisi Roma comunque nel 2025 saranno legati abbiamo gli 800 anni dal cantico delle creature nel 2025 e poi il clou nel 2026 con il centenario francescano e in questo appunto si inserisce anche la canonizzazione di Carlo sono momenti veramente in cui a Sisi si sta preparando ripeto organizzativamente ma saranno veramente momenti impegnativi senti Marina un salto nel ricordo proprio della beatificazione una delle date della possibile canonizzazione secondo le ipotesi appunto quella di ottobre perché nel 2020 il 10 di ottobre ci fu appunto la beatificazione di Carlo Acutis ad Assisi quello è stato un momento come dire di rimente nel senso che lì tutti abbiamo capito che c'era una dimensione che si stava inaugurando relativamente alla narrazione di Carlo molto importante eh sì sì lì abbiamo avuto e poi eravamo era il sì 2020 quindi eravamo in pieno covid una sfida anche accogliere oltre 5.000 mi sembra persone che vennero e da lì ecco è stato davvero un po' capire la dimensione prendere atto della dimensione di Carlo poi l'esposizione del corpo come dicevamo all'inizio ha aiutato perché in qualche modo vederlo con le sue Nike il suo abbigliamento normale un giovane come tanti altri fa un certo effetto e proprio aiuta a capire questa santità di cui dicevamo della porta accanto d'altro canto anche con la tomba chiusa quindi senza la visione del corpo Carlo è straordinario e quindi ecco quel momento comunque che anche negli anni successivi noi a ottobre facciamo sempre una tre giorni l'anno scorso per esempio abbiamo organizzato in cui oltre alla celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo anche un momento in cui per esempio un incontro su internet legato all'uso consapevole di internet come richiamando un po' Carlo per le sue doti e per come ha saputo usare la tecnologia quindi per noi ecco quel momento è sempre molto importante e costruttivo e in prospettiva lo sarà ovviamente ancora di più bene bene grazie Marina Rosati per la tua testimonianza grazie a Massimiliano Menichetti per essere stato con noi alla squadra tecnica di Roma e a tutti voi per essere stati in nostra compagnia attraverso la radio la televisione e il web a tutti un buon proseguimento di giornata il racconto del mercoledì in diretta dal Vaticano una produzione Telepace e Vatican News a cura di Eugenio Bonanata